E ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. In questa puntata andremo a fare un'analisi dettagliata su un possibile prezzo realistico che Bitcoin potrebbe raggiungere durante la prossima bull run. Se ci hai fatto caso, nel titolo scritto 2025. Ma perché proprio nel 2025 Bitcoin dovrebbe raggiungere il massimo di prezzo per il prossimo ciclo di halving? Semplicemente perché se andiamo a prendere in considerazione gli scorsi cicli di halving, Bitcoin contrassegna un nuovo massimo esattamente nell'anno successivo all'halving stesso. Potrebbe questo massimo storico ideologico per questo ciclo essere posticipato o anticipato? Certamente, la possibilità c'è, ma io credo che la sfera di cristallo per prevedere il futuro ancora non l'abbiano inventata. Anzi, se mi stessi sbagliando, contattatemi in privato e mandatemi Liban che me ne compro un paio. Comunque, a parte questa parentesi, ti invito a rimanere fino alla fine di questo video perché ho voluto tagliare una parte dove vi andrò a fare una panoramica dei maggiori fattori che potrebbero influenzare positivamente o negativamente l'analisi appunto che vedremo all'interno di questo video. Partiamo da un presupposto. Quando avverrà il quarto halving per Bitcoin? Allora ragazzi, partendo dal presupposto che l'halving di Bitcoin è un evento che avviene all'incirca ogni 4 anni dove viene dimezzata la rewards per i miners, che i miners sapete tutti che sono in pratica quei player a mercato che hanno il compito di andare a convalidare i blocchi sulla blockchain appunto di Bitcoin. Comunque, questo evento ragazzi avverrà precisamente al blocco 840.000 e possiamo vedere che dal momento in cui sto registrando avverrà esattamente, qui ovviamente stiamo parlando di stime, però tra 152 giorni. Di conseguenza possiamo dire che l'halving, avendo le metiche di oggi e andando a calcolare appunto le performance della blockchain di Bitcoin, ad oggi avverrà il 19 aprile 2024. Comunque ragazzi, qui stiamo parlando di stime, infatti potrebbe ovviamente posticipare di qualche giorno, anticipare di qualche giorno, come vi ho detto prima, a seconda dei dati e delle performance della blockchain di Bitcoin durante questo lasso temporale. Ragazzi, ho voluto costruire questo grafico, un grafico che prende in considerazione l'andamento ciclico proprio di Bitcoin e volevo ovviamente paragonare il possibile ciclo di halving che potremmo assistere da esattamente 19 aprile 2024 e ovviamente i massimi che potremmo toccare nel prossimo ciclo di halving. Però partiamo dai precedenti cicli di halving. Ragazzi, ho voluto prendere in considerazione le performance fatte da Bitcoin nell'anno successivo e negli anni successivi all'halving. Potete vedere che il primo halving c'è stato esattamente a novembre 2012. Novembre 2012 dove abbiamo visto un incremento di prezzo di Bitcoin dal momento dell'halving di circa un 10.200%, dove dal momento dell'halving sono passati 361 giorni per toccare il massimo toccato durante quel ciclo di halving. Infatti potete vedere che Bitcoin è passato da circa 11 dollari fino a un massimo relativa di circa 1.198 dollari, ok? Comunque ragazzi, prendete in considerazione che qui stiamo parlando di cifre approssimate, sia a livello di performance ci saranno appunto punti percentuali in più, punti percentuali in meno, come anche dei giorni. Però comunque ragazzi, l'importante è capire il concetto che sta dietro appunto questa analisi. Possiamo vedere che, come dicevo prima, ci sono stati 361 giorni per andare a fare queste tipologie di performance. Dal momento del top, toccato a novembre 2013, come vi ho detto prima, circa 1.190 dollari circa, sono passati 685 giorni e abbiamo toccato un meno 86%. Infatti il prezzo per quanto riguarda questo ciclo di halving ha ricorretto di un 86%. Passiamo con l'altro ciclo di halving, ok? Potete vedere che le performance rispetto al precedente sono nettamente minori. Infatti non abbiamo avuto più minimamente una performance del 10.000%, ma l'abbiamo avuto del 2.900%. Infatti dal luglio 2016, momento in cui è stato l'halving, il secondo halving per quanto riguarda Bitcoin, abbiamo visto ad una rush, una corsa appunto al rialzo di Bitcoin del 2.900%, ok? Che ha portato a un massimo relativo di circa 19.800-20.000 dollari, ok? E soprattutto potete vedere che per arrivare a certi livelli è passato molto più tempo. Infatti invece che 360 giorni circa del precedente ciclo di halving ne sono passati 526. Perché abbiamo avuto delle performance del genere? Perché potete ben capire che quando un asset aumenta di market cap e di conseguenza di peso a livello di mercato è molto più difficile, andando ad iniettare della liquidità al suo interno, farlo crescere in modo esponenziale, ok? Ovviamente come potete capire quando noi andiamo a immettere liquidità all'interno, per esempio, prendiamo in considerazione un altcoin a bassa capitalizzazione, magari un altcoin che ha 2 milioni di market cap, ok? Se noi andiamo a iniettare un milione di liquidità al suo interno potete capire che le performance possono essere letteralmente stellari. Differente se noi andiamo a inserire un milione di liquidità ad un altcoin o comunque sia anche a bitcoin che sono altamente capitalizzati. L'impatto di questo milione che è fluito ovviamente all'interno dell'asset è nettamente minore rispetto all'effetto invece che vediamo su un altcoin a bassa capitalizzazione, ok? Questo raggiamento ovviamente da fare su tutte le tipologie di asset, non soltanto sul mercato cripto. Comunque il concetto è questo, ok? Infatti tornando a noi possiamo vedere che ha performato del 2.900% in 526 giorni. Potete vedere che molto similarmente rispetto al periodo di halving precedente abbiamo toccato in 365 giorni, anche se il bear market è stato più breve o meglio, è stato più breve andare a toccare il minimo relativo per quanto riguarda quell'halving. Però comunque sia la quantità di valore a livello percentuale è stata molto molto simile rispetto all'halving precedente. Prendiamo invece l'ultimo contesto storico, quello in realtà dove stiamo vivendo. Abbiamo assistito dal momento dell'halving un incremento di prezzo di all'incirca il 714%, ok? Infatti a maggio 2020 abbiamo assistito all'ultimo halving che è avvenuto proprio sulla blockchain di bitcoin. Abbiamo avuto un 714% di performance, sono passati all'incirca 545 giorni dal momento dell'halving per andare a toccare il massimo relativo di all'incirca 68-69 mila dollari. Però questa volta sono passati soltanto 375 giorni per andare a toccare un meno 78% dai massimi per quanto riguarda bitcoin, ok? Infatti questa volta abbiamo perso soltanto, e ripeto, soltanto un 78% che equivale all'incirca a un meno 8% barra meno 9% rispetto ai cicli precedenti. Alla luce di questi dati, se noi prendiamo in considerazione le varie performance dei vari cicli di halving con quelli precedenti, possiamo vedere che abbiamo un decremento a livello di performance per quanto riguarda bitcoin di all'incirca 4 volte meno. Che vuol dire? Vuol dire che il secondo ciclo di halving, ovvero quello scattato a luglio 2016, ha portato il prezzo di bitcoin a performare 3,5 volte meno rispetto al ciclo precedente, ok? Questo ovviamente per vari motivi che abbiamo detto anche prima, ovvero la market cap che è in crescita e di conseguenza far muovere un asset con una market cap ampia è molto più difficile e soprattutto serve molto più capitale rispetto a muoverlo quando ha una capitalizzazione bassa, ok? Per quanto riguarda invece il terzo ciclo di halving, ovvero quello scattato a maggio 2020, abbiamo avuto addirittura 4 volte meno il ciclo precedente, ok? Ovvero il ciclo 2. Quindi, stando con questa tendenza qui e seguendo ovviamente questa tendenza ciclica, possiamo dire che il prossimo ciclo di halving potremo aspettarci una performance di all'incirca 4 volte meno, ok? Se noi infatti prendiamo in considerazione una performance del ciclo precedente di 714%, diviso 4 ci esce all'incirca un 180% scarso, ok? E 180%, ragazzi, che va preso in considerazione dal prezzo che assumerà bitcoin nel momento dell'halving. Allora, io ovviamente ho voluto dare dei prezzi ipotetici per il quale bitcoin potrebbe arrivare a quei livelli, ok? Infatti ho messo all'incirca 42.000 dollari fino ad un target price di 30.000 dollari, ok? Questo perché? Perché se andiamo a prendere in considerazione le fasi precedenti, immediatamente precedenti agli halving di bitcoin, comunque sia, possiamo vedere che non fa grosse performance a livello di prezzo, ok? Infatti possiamo vedere che dal bottom all'incirca fa un 200%, nello scorso ciclo di halving ha fatto all'incirca un 130%, un 140%. Infatti se noi prendiamo in considerazione dal bottom, che abbiamo appunto assistito a novembre scorso, novembre 2022, fino al prossimo ciclo di halving e gli diamo, per esempio, una performance del 160%, che comunque sia, come ho detto prima, è in linea rispetto agli scorsi cicli di halving, abbiamo un target price che va tra i 42.000 dollari fino ai 30.000 dollari circa. Quindi, ammesso e non concesso che assumeremo questi prezzi nel momento dell'halving di bitcoin, e andassimo a fare all'incirca, prendiamo una mediana qui, una performance del 180%, che ricordo ragazzi, il 180% è quattro volte meno rispetto al ciclo precedente, che questo quattro volte meno, ripeto, l'ho preso in considerazione, calcolando le varie performance dal momento dell'halving fino al top di mercato, possiamo vedere che un ipotetico 180% preso dalla mediana di questo range di prezzi potrebbe arrivare all'incirca ai 98.000 dollari, ok? Ovviamente non siamo troppo precisi perché la sfera di cristallo non ce l'ha nessuna, e ragazzi, ricordo che queste sono soltanto analisi andando a prendere in considerazione gli scorsi cicli di halving e non prendono in considerazione tutti i vari eventi macro che potrebbero invece influenzare questa analisi, e mi raccomando, rimani fino alla fine di questo video, perché ho voluto racchiudere tutti gli eventi macro, come ho detto all'inizio, che potrebbero invece variare questa analisi, ok? Potrebbero ovviamente influenzare sia in positivo che in negativo. Comunque, tornando a noi, il target price che potrebbe assumere bitcoin all'incirca, facendo una performance del 178-180%, potrebbe andare tra i 90.000 dollari fino ai 110.000 dollari. Ora, so che moltissimi si aspettano un to the moon, bitcoin mezzo milione, bitcoin un milione. A mio modo di vedere, questo è un target price realistico, ok? Abbiamo 100.000 dollari, che è una soglia psicologica, tantissime persone si aspettano bitcoin a 100.000 dollari, a 150-200.000 dollari nel prossimo ciclo di halving. E sapete benissimo che gli asset, soprattutto per quando si parla di mercati finanziari, ma il mercato cripto soprattutto, non si comportano come la massa si aspetta, ok? Ovviamente io spero di sbagliarmi, spero sempre che bitcoin arrivi a mezzo milione nel prossimo ciclo di halving. Come ho detto prima, io sono uno degli investitori più accaniti, soprattutto di bitcoin, e se dovesse fare delle performance nettamente superiori rispetto a questa analisi che abbiamo affrontato all'interno di questo video, sarei l'uomo più contento sulla faccia di questa terra. Però ragazzi, parlandoci chiaro e essendo realisti per quanto riguarda il possibile price target per il prossimo ciclo di halving, potrebbe ovviamente essere all'interno di queste zone, che ripeto vanno tra i 110 fino ai 90.000 dollari. Ragazzi, un altro strumento interessante a riprova del fatto che il cluster tra i 110 fino ai 90.000 dollari potrebbe essere un price target consono per quanto riguarda i massimi relativi nella prossima sessione del ciclo di halving, è l'angolo trend. Angolo trend, in pratica, per chi non lo sapesse, è uno strumento che si utilizza soprattutto anche in analisi ciclica per prendere in considerazione il momentum in relazione del tempo per quanto riguarda la price action di un determinato asset. Che vuol dire? Vuol dire che va a misurare l'accelerazione della price action in relazione al tempo. Infatti, se noi prendiamo in considerazione il primo pump che ha fatto dal momento del primo halving fino al massimo relativo di quel ciclo, possiamo vedere che abbiamo una inclinazione di all'incirca il 63-64%. Diamo buono un buon 63%, ok? 63% che nel ciclo successivo diventa un 48-47%, ok? Diamo per buono un 48%. Quindi, rispetto al ciclo precedente abbiamo perso all'incirca un 15 gradi, più o meno, siamo a 15 gradi, ok? Ovviamente queste cose vanno un po' prese con le pinze, vanno un po' contestualizzate con un buon margine d'errore, ok? Ma ovviamente potrebbe essere un dato che ci conferma o ci, tra virgolette, cancella una determinata analisi. Se prendiamo l'ultimo ciclo, possiamo vedere che siamo passati da un 47-48% all'incirca un 30%, precisamente un 33%. Abbiamo perso un buon 15%. 15% che se noi dovessimo perdere anche in questa sessione di halving, ok? Nella prossima bull run, dal momento in cui avverrà l'halving fino al top che diamo per buono, che avverrà come gli scorsi due cicli, ovvero a 550 giorni circa, possiamo vedere che il prezzo con un'inclinazione che va tra il 18% e il 15%, avremo un prezzo di bitcoin che va tra i 90.000 e esattamente i 110.000, ok? Quindi possiamo vedere anche da questo punto di vista che i 110.000 dollari o comunque sia questo cluster potrebbe essere consono al comportamento che appunto ha bitcoin rispetto agli scorsi cicli di halving. Ragazzi, non abbiamo assolutamente finito perché voglio andare a vedere, andare a contestualizzare con voi quanta market cap servirebbe a bitcoin per arrivare a certi livelli di prezzo, prendendo anche in considerazione la disponibilità a mercato dei vari bitcoin. Allora, ipotizzando che bitcoin raggiunga i 100.000 dollari e avendo una circulating supply di 19,7 milioni, che attualmente la circulating supply di bitcoin è di circa, adesso andiamo a vedere, 19,5 milioni, per arrivare a 100.000 dollari servirebbe una market cap di 1.97 trillion, che sarebbero 1.970 miliardi. Adesso un fattore importantissimo che potrebbe variare tantissimo questa analisi è la circulating supply. Volevo fare una premessa perché moltissimi di voi adesso potrebbero commentare qui sotto nei commenti andando a replicare per quanto riguarda la possibile circulating supply per quanto riguarda bitcoin. Ovviamente nel momento in cui sto registrando potete vedere che abbiamo un 19,5 milioni di bitcoin attualmente sul mercato, ok? E' anche vero che nel momento dell'albing, ovviamente sapete benissimo, che verranno prodotti nuovi bitcoin. Stime dicono che potrebbero variare tra i 19,7 e i 19,8 milioni, ok? Comunque noi prendiamo 19,7 per capire questo ragionamento che stiamo andando a fare, ok? E soprattutto per avere una metrica per andare a vedere più o meno quanta market cap ci serve per arrivare ai 100.000 dollari. C'è un fatto molto curioso sulla circulating supply che volevo affrontare con voi, ovvero il fatto che c'è una stima, ci sono tantissime stime che secondo me sono anche falsate, eccetera, eccetera, ok? Però tantissimi analisti ritengono che addirittura circa il 30% della bitcoin supply sia andata persa inesorabilmente, ok? Questo perché potete capire che per esempio un milione di questi bitcoin sono all'incirca nel portafoglio di Satoshi Takamoto che spero che non si riattivi mai. Tantissimi bitcoin sono andati persi durante il corso del tempo perché potete capire che magari erano detenuti su hardware wallet che sono stati buttati via, ci sono stati tantissimi eventi che hanno testimoniato ciò e di conseguenza potete capire che il calcolo da fare su 19,7 milioni potrebbe non essere completamente esatto. Però ragazzi, non avendo un dato corretto su quanti bitcoin sono stati realmente persi, ovviamente noi dobbiamo attenerci a questi dati, ok? So benissimo che la circulating supply realmente utilizzabile e che realmente potrebbe andare a impattare sul mercato potrebbe essere nettamente minore, ok? Però noi diamo per buono 19,7, 19,8, ok? Però l'importante è capire il concetto. Per arrivare comunque sia al prezzo di 100 mila dollari occorrono all'incirca 1970 miliardi. Quanto sono 1970 miliardi? Andiamo a vedere gli asset ranked by market cap, ovvero gli asset più grandi a livello di market cap. Attualmente su bitcoin ci troviamo al dodicesimo posto, ok? Poco sotto Tesla, che ha una market cap di all'incirca 744 miliardi di dollari. Attualmente, nel momento in cui sto registrando, bitcoin si trova a 36.600 dollari con una market cap di 715 miliardi. 100.000 dollari per bitcoin vorrebbero dire, dal momento in cui sto registrando, far fare quasi un per tre alla market cap di bitcoin stesso. Ovvero, facendola passare dai 715 miliardi di dollari di oggi fino ai 1.9 trillion. 1.9 trillion, se andiamo a vedere a mercato chi li ha, potrebbe voler dire sorpassare Google. Ora ragazzi, potrebbe succedere di tutto. E secondo me potremmo scavallare Alphabet, ok? O comunque sia avvicinarci molto, soprattutto nel prossimo ciclo di Albing. E soprattutto se prendiamo in considerazione TF Spot e varie altre situazioni che andremo a vedere comunque a brevissimo. Quindi ragazzi, andare addirittura sopra, per esempio, Saudi Aramco, Microsoft, eccetera, eccetera, secondo me invece potrebbe essere molto, molto complicato per l'asset del bitcoin, ok? Molti paragonano appunto bitcoin al gold, se avesse la market cap del gold, allora bitcoin arriverebbe a... Secondo me ragazzi sono un mucchio di stronzate, soprattutto nel brevissimo termine. Comunque, tornando a noi, secondo me ai livelli di Alphabet odierni potrebbe arrivarci senza problemi, soprattutto se si allineano varie lune. Ma quali sono questi fattori che potrebbero influenzare notevolmente quest'analisi e soprattutto far fluire tutti questi capitali all'interno di bitcoin? Adesso andiamo a vederlo. E se questa volta fosse diverso? A parte il fatto che tutte le volte che il mercato crolla o sale repentinamente, a prescindere appunto che sia bitcoin un altro asset, tutti si fanno questa domanda. Ma il 90% delle volte in realtà poi non cambia assolutamente nulla e si verifica uno scenario molto simile a quello che si è appunto verificato negli cicli precedenti. Questa volta però potrebbe avere senso farsi questa domanda. Questo perché ci sono vari fattori che l'analisi ciclica non prende in considerazione per quanto riguarda bitcoin. Dunque, il primo fattore più importante è il fattore ETF spot. Negli ultimi mesi non si parla di altro. L'ETF spot potrebbe essere uno dei fattori che potrebbe avvicinare gli investitori istituzionali a bitcoin. E sappiamo benissimo che chi muove i mercati sono proprio le grosse banche di investimento, hedge fund, investitori istituzionali più in generale, eccetera eccetera. Uno dei primi a presentare una domanda alla SEC americana è stato proprio BlackRock. Per chi non lo conoscesse è il più grande asset manager al mondo con in gestione circa 10 trilioni di dollari. In parole povere stiamo parlando di 10 mila miliardi di dollari in gestione. Con quest'ultima mossa BlackRock ha aperto il via a una serie di colossi di Wall Street che hanno presentato la propria versione dell'ETF alla SEC americana. Tra i quali appunto possiamo trovare anche Fidelity, un asset manager da 4 trilioni, Archinvest e moltissimi altri. Questo fattore infatti è uno dei più importanti che l'analisi ciclica non prende minimamente in considerazione. E una eventuale approvazione da parte della SEC di questi ETF a replica spot appunto su bitcoin potrebbe far aumentare notevolmente la domanda sull'asset di bitcoin. Di conseguenza il prezzo potrebbe beneficiarne e anche parecchio. In realtà è anche difficile andare a quantificare quanto capitale potrebbe fluire nel corso del tempo in questi strumenti finanziari. Molti di questi asset manager hanno cercato di fare alcune proiezioni, ma secondo me sono un po' troppo ottimistiche. Come ad esempio quelle di Archinvest che entro il 2030 prevede che il bitcoin supererà il milione e mezzo di controvalore. Che sia chiaro, io sono il primo che qui investe in bitcoin e sarei l'uomo più contento sulla faccia di questa terra se bitcoin arrivasse a quelle cifre nel tempo prestabilito da Katie Wood appunto. Ma credo che in assenza di dati concreti la cosa migliore da fare è avere delle aspettative più conservative possibili diciamo. Tra l'altro ad oggi credo che queste analisi abbiano un secondo fine, ovvero portare interesse su questi ultimi strumenti che questi big stanno per lanciare al mercato. Anche perché come ho detto prima, molti di questi report sono fatti proprio dalle stesse entità che hanno richiesto alla SEC l'approvazione del proprio ETF spot. Un altro fattore che potrebbe influenzare il prossimo ciclo di halving potrebbe essere l'instabilità geopolitica che stiamo vivendo ultimamente in varie parti del mondo. Infatti i vari conflitti a cui stiamo assistendo ad esempio in Ucraina o anche in Palestina hanno veicolizzato interesse da parte di queste popolazioni nell'investire nel mercato cripto, compreso bitcoin. Ci sono diversi studi che dimostrano che dallo scoppio della guerra in Ucraina, così come anche con la situazione appunto in Palestina, molte persone per necessità, e sottolineo quest'ultima parola, dato che moltissime banche hanno limitato l'accesso ai fondi dei propri clienti, hanno trovato il mondo cripto e i suoi strumenti come la migliore alternativa per conservare la ricchezza. Questo ovviamente è nei limiti del possibile. Vogliamo parlare invece dell'instabilità economica e monetaria di vari paesi? Prendiamo un esempio lampante, la Turchia e la lira turca. Negli ultimi dieci anni ha perso più del 90% del suo valore contro il dollaro, dove una buona parte della perdita di valore è avvenuta a causa dell'inflazione. Buona parte della popolazione turca, così come anche le altre popolazioni in una situazione simile a quella turca, hanno convertito parte dei propri beni in bitcoin o nelle principali stablecoin, questo appunto per andare a cercare di limitare i danni causati dall'inflazione. Anche questo fattore, se dovesse intensificarsi, potrebbe aumentare la domanda sul già asset scarso che è bitcoin. Arrivando a tirare le somme è molto difficile andare a quantificare quale impatto potrebbero avere questi ultimi due fattori appunto sul prezzo di bitcoin durante il prossimo ciclo di halving. Chi vi spara delle cifre precise al millimetro, a mio umile parere, sta sparando alla cecla nel mucchio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, secondo voi, a che prezzo potrebbe arrivare bitcoin nel prossimo ciclo di halving. Spero che questo video ti sia stato utile in qualche modo, se lo è stato ti invito a schiacciare un like e iscriviti al canale. Ti ricordo che in descrizione trovi tutti i link degli exchange crypto che io stesso utilizzo per andare a fare trading o comunque sia operare nel mondo crypto, oltre che ovviamente supportare il canale e hai anche dei bonus esclusivi se ti iscrivi attraverso i link che ti lascio qui sotto in descrizione. In pratica come si dice dalle mie parti, prenderesti due piccioni con una fava. Per gli iscritti noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! Ciao!